A settembre, con il nuovo anno scolastico, l'Istituto Luzzago di Brescia, con il supporto del gruppo Fidelitas, doterà i suoi alunni, primo in Italia, di dispositivi per il controllo delle distanze interpersonali e farà installare un sistema automatico contapersone nel bar della scuola. Per aumentare la sicurezza, oltre ai vari dispositivi, la mascherina, il gel igienizzante, il mantenere le distanze, abbiamo pensato, negli altri momenti in cui gli studenti sono in movimento nella scuola, di sfruttare una partnership importante, che è Fidelitas, che è già esperta in sicurezza, con la quale abbiamo concordato di poter fornire ad ogni nostro alunno un braccialetto che segnalerà la distanza nei momenti in cui non sono in classe. Durante l'emergenza pandemica, il gruppo Fidelitas ha sviluppato delle soluzioni, soluzioni innovative, tecnologie per mitigare il rischio del contagio, termopad, braccialetti per la gestione delle distanze, contapersone per evitare assembramenti in luoghi chiusi. Tutte queste tecnologie sono state anche pensate per il mondo della scuola e a questo punto abbiamo sentito la necessità di dare il nostro supporto alla Luzzago di Brescia, che ha voluto adottare queste tecnologie e contare sulla nostra partnership per poter ripartire con l'anno scolastico dando piena sicurezza ai suoi studenti e al corpo docenti. Per me tornare a scuola da settembre significa tornare in un bel posto dove si può relazionare con le persone, inoltre con tutte le nuove misure di sicurezza riusciremo anche a stare più tranquilli.